Dal campo si vedono delle cose che a volte sono sbagliate, a volte errate, oggi mi sembravano palesemente chiare e infatti credo che, così come ho detto alle tv, avendo fatto una scommessa con tagliavento all'inizio del secondo tempo, che mi debba dare una cena dove dovrò scegliere anche il ristorante perché secondo me non era nemmeno fallo, oltre che non espulsione, ma lo dico a priori, secondo lui era così, quindi lo sto dicendo a voi perché non vorrei che si tirasse indietro, oggi c'era bisogno di qualcosa in più, però credo che quando gioi contro un avversario così forte, così esperto come il Milan, non basti il cuore, ci vuole l'organizzazione, la convinzione, la determinazione, forse anche un pizzico di incoscienza, però non è che recuperi due gol al Milan soltanto con il cuore, ho pensato di dover fare un miracolo, ci vuole anche un processo, anche tattico, soprattutto credo di convinzione che non lo puoi trovare in 20 minuti se alle spalle non c'è una crescita, è un processo quello in cui stiamo credendo noi e quando vedi la squadra in questo modo ti accorgi che anche la squadra ci crede, probabilmente anche più dell'allenatore, la cosa mi fa particolarmente piacere.